Mi chiamo Elisabetta Conci, detta Elsa. Sono nata il 23 marzo 1895 a Trento, primogenita di 5 sorelle, da Maria Sandri, insegnante di pianoforte, ed Enrico Conci, avvocato e notaio. Dalla mia famiglia ho ricevuto un'educazione rigorosamente religiosa, e sempre in famiglia è nato il mio interesse per la politica. Mio padre è stato membro della dieta di Innsbruck, del Parlamento di Vienna, e quindi del Senato italiano. Nel 1915 conseguo la licenza liceale e mi laureo al Conservatorio in pianoforte. Proseguo poi gli studi presso la Facoltà di Filosofia di Vienna, per tre anni, e poi conclusa la guerra a Roma, dove nel 1920 mi laureo in lettere, dedicandomi poi all'insegnamento. Sono molto attiva nella Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e presto mi distingo per le mie capacità e assumo la presidenza della sezione romana. Una costante della mia azione pubblica è la critica all'immoralità. Nel 1920 intervengo al Congresso Nazionale di Trento, presieduto da Alcide De Gasperi, con una relazione dal titolo La Moralità della Giovane. Sempre in questo intervento valorizzo l'impegno delle sezioni femminili. Nel 1923 vinta la Cattedra di Lingua Tedesca, insegno in due istituti superiori di Trento, e al contempo organizzo il Natale del Povero per i bambini bisognosi, e un doposcuola privato e gratuito. Pur mantenendo un atteggiamento critico verso il regime, nel 1933 mi iscrivo al fascio femminile cittadino. Di fronte all'emanazione delle leggi razziali, la distanza verso il fascismo si approfondisce. Il 2 settembre 1938 dichiaro «Tutti gli ebrei immigrati in Italia, anche quelli cui è stata concessa la cittadinanza, devono lasciare il nostro paese entro sei mesi. È inumano, ingiusto, davvero indegno della nostra tanto vantata civiltà». Durante la guerra mi dedico a un'ampia attività assistenziale e partecipo al processo di costruzione della democrazia cristiana. Proprio al fine di garantire un'adeguata formazione nel campo sociale, promuovo la Scuola Superiore di Servizio Sociale a Trento. Candidata alla Costituente, svolgo la campagna elettorale nel territorio senza riserve di energia e vengo eletta seconda nel mio collegio per numero di preferenze dopo il C. De Gasperi. Per questo suscito ammirazione tra le donne. Le mie amiche, appena saputo dell'elezione, vengono a farmi visita, dandomi consigli politici ma anche di abbigliamento. Andare a Roma, al Parlamento, vuole anche dire smettere i miei straccetti da provinciale. Si vuole che faccia bella figura. Pure mia madre, che mi aveva raccomandato di non diventare ambiziosa, si preoccupa di procurarmi un abito adatto affinché non appaia troppo sciatta. Sarò eletta ancora alla prima e alla seconda legislatura e la mia esperienza di parlamentare si concluderà nel 1963. Fedeltà al partito e alla Chiesa, anticomunismo e difesa dei valori tradizionali sono il fondamento della mia attività, insieme con la totale dedizione alla politica, tanto che gli avversari mi definiscono la passionaria bianca. Il mio impegno e il mio rigore sono riconosciuti dagli amici e dalle amiche della democrazia cristiana che mi regalano una spilla d'oro a forma di monopattino, per richiamare la mia eccezionale dote di adattamento che fa sì che riesca ad ottenere grandi risultati con pochi mezzi a disposizione. Sono una convinta europeista. Tra gli anni 50 e 60 faccio parte della delegazione italiana al Parlamento europeo di Strasburgo e sostengo la fondazione dell'Unione femminile europea di cui sarò anche la presidente. Nel maggio 1965 esco dalla scena politica e muoio il primo novembre dello stesso anno. I miei funerali si svolgono a Trento alla presenza delle maggiori cariche dello Stato e la Camera dei Deputati mi dedica una commemorazione.